ariete giornata sottotono la luna opposta suscita insoddisfazione e nervosismo cercate di distrarvi con una attività fisica che scarichi le tensioni non siate troppo polemici in amore toro giove e marte in angolazione dissonante creano qualche intemperanza moderate gli eccessi a tavola le gelosie e orientate la mente alla positività non vi mancano le motivazioni gemelli alleggeriti da fardelli ormai lontani attraversate una benefica pausa che vi fa vivere il periodo con tranquillità ma cercate di non cadere nella trappola della noia per voi insopportabile cancro l'umore oggi non è al top si fa strada un malcontento che inquina le attività della giornata dovete mettere in conto un periodo un po faticoso che esige una presa di coscienza di qualche situazione in bilico leone la luna amica oggi sostiene l'ottimismo e vi inclina a ricercare negli incontri un motivo di soddisfazione l'assestamento di alcune questioni di lavoro ed economiche è necessario per ottenere conferme vergine forti di un quadro astrale importante generoso non fatevi prendere la mano da facili entusiasmi e utilizzate la vostra capacità analitica per ottimizzare e consolidare la vostra posizione bilancia la luna di passaggio nel segno oggi esalta le ragioni del cuore e delle emozioni ma qualcosa disturba la sfera amorosa e le convinzioni personali dovete trovare nuovi equilibri scorpione ciò che intraprendete in questo momento riscuote i favori astrali la fortuna viagevola e potete ricevere conferme importanti trovare le modalità giuste per un traguardo che vi sta a cuore sagittario il periodo mostra un andamento piacevole e privo di particolari tensioni un momento di regolare transizione nel quale tutto scorre senza destare preoccupazioni degne di nota capricorno in una fase così ricca di potenziali cambiamenti importanti e di nuove consapevolezze personali oggi la luna nemica può innervosirvi ma non intacca la positività del periodo evitate discussioni inutili acquario un raggio di sole illumina la vostra giornata e vi fa scivolare verso il buon umore concentrate le energie sui rapporti interpersonali sulle frequentazioni amichevoli ne ricaverete sensazioni positive pesci potrebbe persistere qualche incomprensione con chi vi circonda ma il cielo astrale promette una fase di generosa fortuna che compenserà molte fatiche fin qui sostenute l'amore vi sorride buone stelle buone stelle buone stelle